Roberto Ippolito si accomoda con noi. Allora, io invece invito gli altri partecipanti della nostra tavola rotonda, il Presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Basilichi, poi c'è il... prego, potete cominciare a salire, il Presidente dell'OM, Antonio Cadricalà, il Generale Cuzzocrea, che è il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, accomodatevi dove volete, Maurizio Gasparri, il Vice Presidente del Senato, prego. Poi, Samuele Lupidi, eccolo qui, di Auxilia Finance, Angelo Peppetti, che è dell'ufficio crediti dell'Associazione dell'ABI, delle banche italiane, non so se c'è il questore... No, non c'è. Eh, il questore di Firenze non c'è, poi il Presidente che fa, resta lì? No, io rimando qui, però siccome dobbiamo essere un po' interattivi, e mi alza la mano e si va a sedere lì al porto del Presidente... Eh, ecco qui... Chi è? Fiori, Presidente di Pesaro. Dov'è Fiori? Eccolo, Fiori. Qui per lui c'è la poltroncina che scotta, c'è il trucco, no? Allora, eh, voglio dire solo una cosa, eh, cominciamo... Eccolo, eccolo qui, così sentiamo anche, no? Chi vive... Eccolo, prego, chi vive in trincea, diciamo, così poi sentiamo... No, voglio cominciare subito con Leonardo Basilichi, vediamo, eccolo, scusatemi, perché adesso mi oriento, conosco molti, ma non tutti. Eh, posso dire una cosa prima di chiederle, eh, di farle la domanda riguardo al suo ruolo? Io non so se, perché parlavamo di abusivismo prima, non so se fosse o meno abusivo, però è un episodio che riguarda vicino gli agenti immobiliari. Qualche anno fa ho accompagnato una mia amica a vedere un piccolo monolocale a Roma, dalle parti, diciamo, di Prati, e si è presentato, forse era un agente immobiliare, non lo so, io, insomma, ero soltanto accompagnavo per dare un parere sulla casa, si è presentato un signore smilso, sembrava un ballerino, cubano, devo dire, proprio come era vestito, siamo entrati in questo piccolo monolocale, appena rifatto, bianco, tutto bianco, la luce, questi neon riflettevano il bianco, a un certo punto in questa piccolissima camera da letto, dove c'entrava a malapena un letto a una piazza e mezzo, non potendo avere comodini e nulla, si affacciava, diciamo, su una porta finestra. Abbiamo visto questa porta finestra, abbiamo detto, che cos'è? La porta finestra dava su, praticamente, un blocco di cemento e c'era un camion che stava scaricando. Questo signore ci ha guardato interdetti e mi ha detto, ma scusate, questo che cos'è? Non è un balconcino, non è un terrazzino, che cos'è? Ci ha detto, questo è un pensatoio. Va bene, no, per dire, adesso io non so. Ha detto esattamente così, allora ho apprezzato la fantasia, devo dire, non so che agente immobiliare fosse, ovviamente non se ne è fatto nulla. Allora, è un episodio vero, allora, Basilichi, allora, dal vostro punto di vista, per quello che è il suo ruolo, cioè voi cosa fate per controllare le abusivi? Prima lo sentivamo anche, ce lo diceva il vicepresidente della FIAP, molti agenti immobiliari sono iscritti alle Camere di Commercio. Voi che fate? Ma se guardo i dati, che cosa si è fatto? Niente. Eh, perché c'è... Viva la sincerità. Viva la sincerità, eh. No, mi spiego meglio perché non vorrei mai... Shhh! Già le Camere di Commercio le vogliono chiudere, ora dopo questo... Sì, c'è stato un ripensamento, mi pare, insomma, le vogliono accostare. No, no, perché secondo me c'è tanto di buono. Però io ho visto, io non faccio il mestiere loro, per cui non conosco benissimo molti argomenti, però ho visto un po' la storia, no? Perché comunque prima esisteva un albo, quest'albo ci permetteva sicuramente di essere molto più puntuali. Poi è diventato un'autocertificazione e l'autocertificazione basta sia commessa nella maniera migliore e la cosa va avanti. A distanza di un periodo lungo, diciamo superiore a due anni, ad oggi Firenze, parlo per Firenze, quindi non ha alzato, non ha identificato nessun reato, per cui tendenzialmente il niente potrebbe essere che questo è un territorio felice. Bene. Posso esercitare il diritto della possibilità che sia un territorio felice? Presuppongo che forse così non è perché insomma la cosa è diversa, però qui è anche triste perché se noi italiani vogliamo semplificare questo paese e loro stessi lo sanno bene, l'autocertificazione è un elemento importantissimo per semplificare questo paese, ma poi se noi italiani stessi ce ne fottiamo di tutte queste cose, è chiaro che poi si crea delle condizioni che sono impossibili da controllare. Io penso che ci sono alcune cose che sono impossibili da controllare. se in nostra cultura non cambia nella voglia di non frodare, perché dovrei avere tante di quelle persone per controllare tutti gli operatori di tutti i settori. Voi considerate che noi si controllano le bilance e le misurazioni di tutto il territorio? Perché è la stessa cosa, eh? Quindi non posso credere che si debba pensare di avere gestione a uomo, perché vorrebbe dire avere uno Stato che è enorme per controllare i vizi di ognuno. Noi dobbiamo imparare a cambiare internamente, onestamente. Eh, insomma, allora voglio, tanto, sempre di abusivismo di tratta, vado da Samuele Lubidi, ecco il microfono. Allora, insomma, c'è anche l'abusivismo finanziario, no? Insomma, lo sappiamo, quindi non è... C'è sotto varie forme, come quella dei mediatori, altre figure, insomma, che peraltro devono essere, credo, iscritte all'OAM, no, adesso? Certo, sì. Eh, e allora, come si svolge in quel campo dal punto di vista finanziario l'abusivismo? Come funziona? L'abusivismo nel campo della mediazione creditizia, o comunque dell'intermediazione del credito, può essere di due tipi. Può essere l'abusivo totale, quindi colui che non è iscritto negli elenchi OAM, quindi non soddisfa nemmeno uno dei requisiti del decreto legislativo 141, ma c'è anche l'abusivo parziale. Io lo chiamo così. L'abusivo parziale è quello che una società di mediazione creditizia o un intermediario del credito può mettere in atto quando iscrive una parte dei suoi collaboratori agli elenchi dell'OAM e un'altra parte, invece, opera al di fuori degli elenchi OAM. È chiaro che ha un vantaggio in questo caso perché l'alto numero, magari, di collaboratori gli obbliga la società di mediazione creditizia a dei controlli a un audit su un numero maggiore di collaboratori con dei costi superiori. Voi come auxilia, insomma, ovviamente voi siete sottoposti a tutta una serie di screening e di controlli molto stretti. Sì, è chiaro, noi come società di mediazione creditizia ovviamente abbiamo tutte le attività che svolgiamo sono assolutamente in regola con i dettami normativi. È chiaro che questo, noi tra l'altro numericamente siamo la seconda società in Italia come numero di collaboratori, quindi per dimensioni, per intermediato e per fatturato. quindi è una società importante. È chiaro che l'abusivismo che è molto forte nel nostro settore ci mette in seria difficoltà quando poi si devono tirare le somme e bisogna far quadrare il conto economico. Quindi ritengo che nel nostro settore si debba, anzi si possa sviluppare si possono sviluppare gli anticorpi dall'interno del mercato. Cioè quando tutti gli attori del mercato capiranno davvero che l'abusivismo fa male a tutti e quando parlo degli attori del mercato parlo dalle società di mediazione creditizia alle banche al consumatore che utilizza un abusivo ecco, quando tutti gli attori capiranno che questo fa male al mercato probabilmente l'abusivismo rientrerà dico un termine forse non bellissimo rientrerà nei limiti fisiologici no? Sì perché purtroppo che non sono quelli che conosciamo adesso no, sono patologici sono patologici, certo allora proseguo con Angelo Peppetti dell'ufficio credito di Abbi per capire un po' le banche no? che cosa fanno allora sul tema forse no, non funziona funziona allora diciamo sul tema dell'abusivismo noi riteniamo che al di là di individuare poi il soggetto abusivo dall'altra parte bisogna fare un'attività un po' di prevenzione noi l'abbiamo avviata anche nell'ambito dell'organismo delle agenti e mediatori e ce lo può confermare anche il presidente Catrica l'ha un'iniziativa proprio volta da un lato a individuare quelli che possono essere i warning sul tema dell'abusivismo ovviamente tema stiamo parlando della distribuzione del credito insomma che è il tema insomma di oggi ma dall'altra parte c'è anche la necessità di fare un po' di prevenzione prevenzione attraverso anche un'attività o un'iniziativa di educazione finanziaria nei soggetti che possono incorrere nell'abusivo e parlo del consumatore c'è un'iniziativa che abbiamo avviato anche con le associazioni dei consumatori che sul punto ci possono dare una mano cioè qual è la consapevolezza del consumatore quando si approccia a un soggetto terzo che gli propone una serie di prodotti di credito e molto spesso comprendiamo che gli stessi consumatori e le stesse associazioni di consumatori non hanno la consapevolezza di quello che il giusto corretto mediatore o agente in attività finanziaria mediatore in termini di società o agente in attività finanziaria deve fare quando si approccia per la prima volta con il cliente o semplicemente rendersi conto quello che in realtà il l'agente o il mediatore creditizio corretto deve fare dopodiché poi ci dobbiamo mettere anche d'accordo su che cosa si intende per abusivismo perché molto spesso anche da un punto di vista giuridico non riusciamo a comprendere bene ciò che è abusivo e ciò che invece non lo è c'è stata una grande diatriba sul segnalatore cioè se è il soggetto che può segnalare la banca ma chiaramente nel prodotto di credito debba necessariamente essere iscritto all'organismo degli agenti mediatori in questo senso c'è ancora una non chiarezza chiarezza che poi verrà pensiamo introdotta con una ridirettiva che è la 17 del 2014 che è la disciplina nuova sui mutipotecari che introdurrà e disciplinerà a me nel concetto di come dire di segnalatore e quindi farà maggiore chiarezza su effettivamente quali siano l'ambito di operatività degli agenti e dei mediatori peraltro poi l'abusismo esiste anche nel mondo delle banche chi è iscritto alla newsletter di Banca Italia sa che la sera intorno alle 7 e mezza arriva la newsletter e dice la sedicente banca l'ultima era Magnolia non è iscritta all'articolo 13 quindi esistono anche banche sedicenti che non esistono e non sono veri quindi attenzione anche dove sottoscrivete i conti correnti grazie Fiori quello che ha sentito praticamente si nota che l'abusivismo è praticamente trasversale in tutte le categorie noi partiamo dagli agenti immobiliari oggi perché qui siamo ovviamente parlando appunto di agenti immobiliari ma come è noto dalla banca dai mediatori creditizi da qualsiasi tipo di mestiere oggi l'abusivo dilaga quindi fondamentalmente è quello che chiedono tutti chiediamo anche noi delle normative certe e concrete che riescano a combattere la forma dell'abusivismo sia dal punto di vista dell'agente immobiliare che dal punto di vista della banca del dentista che c'era il babbo con il figlio dicendo che si tramandava addirittura il lavoro abusivo e quindi una forma concreta determinata e pragmatica che possa aiutare a combattere l'abusivismo quello che diceva prima di noi il collega Papi la forza di riuscire ad unire le camere di commercio e anche altre forme di controllo sul territorio possono portare una forma di non dico di coercizione ma di controllo maggiore anche nei confronti degli stessi agenti immobiliari che operano all'interno di agenzie immobiliari nel senso che ci possono essere agenzie immobiliari dove all'interno ci sono un agente immobiliare e tantissime altre persone che fanno lo stesso mestiere non sono agenti immobiliari quindi già riuscire a controllare e ad autocontrollarsi perché noi chiediamo questo probabilmente è una delle poche categorie in Italia che chiede di essere controllata quindi noi chiediamo di essere controllati per far venire fuori l'abusivismo in generale non soltanto di quelle persone che sono completamente abusive e al di fuori del nostro mondo del mondo degli agenti immobiliari perché il nostro mestiere tendenzialmente vorrebbero farlo tutti cioè a partire da svariate categorie tutte quelle che girano intorno all'agente immobiliare che sono i tecnici più variati geometri ingegneri architetti e tanti altri altri professionisti del diritto che adesso non voglio citare però comunque anche altri che vogliono fare il nostro mestiere non poi potendo emettere ovviamente una fattura di qualsiasi genere fanno passare questo lavoro questo servizio con un altro termine un altro nome questi sono abusivi tra virgolette gli abusivi quelli completamente abusivi diciamo dovrebbero essere invece controllati dallo Stato in maniera diversa non soltanto da diciamo da noi colleghi per capire chi è chi non è abusivo quindi un controllo maggiore da parte delle istituzioni sicuramente ma non soltanto dalle istituzioni in senso lato ma anche sul territorio dalle camere di commercio e anche dagli stessi comuni e poi insomma lo diceva il vicepresidente insomma se anche tra voi si fanno schicchiolare diciamo le coperture si vanno a scoperchiare queste cose forse diceva prima che sono state 450 oltre domande di cui 270-300 insomma sono andate a buon fine quindi qualcosa rispetto a prima molto si è fatto e spero che si continui a fare ovviamente allora devo andare dal senatore Gasparri ma prima faccio un passaggio con il presidente Catricala perché no da quanto da giugno aspetti che le do un microfono è presidente dell'O.A. ma ho sbaglio sì sono un neofita quindi vengo qua anche con l'ansia di prestazione non voglio fare brutta figura ma visto il suo curriculum voglio dire non credo grazie devo precisare che ho studiato molto perché non mi andava di assumere questa carica che dopo ho capito era particolarmente delicata senza un'adeguata preparazione quindi i primi tempi sono stato un po' a guardare a studiare a consultare poi ho capito che l'abusivismo è un terreno certamente da contrastare ma soprattutto da conquistare perché gli iscritti all'O.A. ma sono molto di meno di quelli che fanno il lavoro di mediatore e di agente e allora perché non conquistarli? Per conquistare qualcuno bisogna mettersi dal suo punto di vista secondo me tra il fare l'abusivo l'illegale e stare invece un'azione di legalità tutti preferiremmo stare dalla parte della ragione cioè tra essere lo sceriffo e il ladro è meglio essere lo sceriffo ma perché non divento sceriffo? Perché è difficile ottenere la stella avere il portodarmi e poi devo comportarmi bene sempre devo magari assicurare il vice sceriffo e tutto quanto mentre se invece faccio il ladro sapete che c'è è tutto più semplice non pago tasse non ho un codice etico non ho un collegio dei revisori chi mi controlla in fondo sì no c'è una sanzione penale attenzione se tu fai l'abusivo come mediatore o come agente vai in prigione hai una multa molto alta non c'è mai andato nessuno nessuno ha mai avuto un avviso di garanzia in quanto abusivo allora il problema è che certamente intanto bisogna togliersi dall'idea dalla mente l'idea che avere una sanzione penale sia un vero deterrente se la sanzione penale poi non è applicata certo se fossi io un procuratore della Repubblica preferirei nell'ambito della discrezionalità minima che lascia l'obbligatorietà dell'azione penale perseguire i corruttori i corrotti i concursori i gangster i camorristi e non gli abusivi questo mi sembra logico noi vediamo venditori abusivi e contraffattori di marche importanti per strada ogni giorno che ogni tanto il vigilo urbano gli fa togliere il banchetto e riesce a scappare allora che bisogna fare io ho molto apprezzato intanto quell'emendamento dell'onorevole del senatore Gasparri che prevede che per esempio per gli abusivi nella intermediazione immobiliare da tre sanzioni si scenda una però abbiamo visto adesso che anche quell'unica sanzione Maurizio è difficile da dare quindi forse bisognerebbe immaginare una bella sanzione amministrativa una sola ma dura molto tosta come fa certe volte l'antitrust che colpisce nel patrimonio la persona e nella sua reputazione perché in un posto chi lavora in questi settori è la reputazione che conta perché se sei uno che che mi deve dare la casa mi deve trovare la casa me la deve vendere mi deve trovare l'acquirente io devo fidarmi ma a maggior ragione se sei un promotore finanziario a maggior ragione se sei uno al quale io vengo a chiedere di trovarmi una banca che mi dia un mutuo insomma è tutto basato sulla fiducia posso fidarmi di uno che non ha nemmeno un registro dove segna i clienti perché si arriva la finanza allora il tema è colpirlo nella reputazione fare un bell'albo degli abusivi noi avremmo un albo dei corretti e un albo dei non corretti questa è un'idea probabilmente avere un bollino blu per chi fa correttamente il proprio mestiere per chi paga le tasse per chi assicura e non dobbiamo trattare troppo male gli iscritti perché quello di cui mi sono reso conto io è che posso dare con questo organismo che è privato tra l'altro moltissimo fastidio agli iscritti nessun fastidio ai non iscritti e non mi sembra giusto tra l'altro quello che è stato affidato all'Oam è un'attività pubblicistica siamo un organismo privato ma l'attività è tanto pubblicistica che le nostre sanzioni si impugnano al TAR al Tribunale Amministrativo Regionale come se fosse un authority quindi per dirla tutta c'è qualcosa che non funziona qualcosa va cambiato probabilmente va semplificato l'accesso ai nostri elenchi forse facciamo delle domande troppo difficili quando chiediamo l'abilitazione forse chiediamo troppo come iscrizione dei nostri collaboratori alle Nasarco forse chiediamo troppo non abbiamo il tirocinio per esempio che invece sarebbe una cosa ottima aprire ai tirocinanti a giovani che entrano nel mercato fanno il loro però è chiaro che il mediatore per avere il tirocinante deve essere invogliato deve pagare meno di contributi deve pagare meno di retribuzione deve e lo stesso tirocinante poi non deve fare l'esame magari dopo che ha fatto un anno di tirocinio cioè dobbiamo immaginare un ambiente più facile più friendly per chi si vuole iscrivere e non associazioni a organismi come il nostro che sono un po' duri nell'approccio dobbiamo essere molto probabilmente più collaborativi ci viene chiesto un parere e diamolo diamo il parere io se mi chiedono i pareri io li voglio dare perché è un punto di vista certo non è una legge dice ma no ma quando tu dai il parere ti assumi una grossa responsabilità vabbè ma ci pagano pure non è che alla fine questo mestiere di stare a iscrivere la gente in albi e a dare abilitazioni promozioni donetà qualche responsabilità la deve comportare francamente pensate a chi vigila sui promoter perché io in fondo vigilo su persone che tutt'al più danno una fregatura alle banche ora l'ABI mi perdonerà però alla fine dal punto di vista mediatico è gravissimo però dal punto di vista mediatico rischio di meno di chi vigila sui promoter finanziari sui promoter ma già quelli sono persone che non prendono i soldi dalle banche e li danno ai risparmiatori prendono i soldi dai risparmiatori e li dovrebbero investire lì secondo me c'è un rischio assai maggiore però dobbiamo essere tutti pronti a prenderci qualche responsabilità certo la maggiore responsabilità come al solito c'è il Parlamento ora il senatore Gasparri lo sa che arriva qui in Parlamento credo che sia già arrivato e credo che sia al Senato la recepimento della direttiva insieme alla legge di legazione comunitaria la numero 14 mi pare che è una direttiva che riguarda proprio questo settore se lì alcuni punti per esempio la depenalizzazione dell'istituzione presso il Ministero dell'Economia di un ufficio che fa sanzioni lì le sanno fare le sanzioni si fa con la legge normale per cui alla fine è una 1089 del 39 è tranquilla sappiamo dove si impugna e abbiamo anche belle sanzioni che si possono dare l'albo dei non iscritti lo terremmo noi che esistiamo probabilmente le Camere di Commercio potrebbero fare lo stesso anche lì c'è una responsabilità perché uno dice scusa tu mi hai messo in un albo di non iscritti e mi hai rovinato la reputazione ma io non avevo nessuna voglia di essere scritto mi ricordo di una volta che come antitra sanzionammo un mago che stava a Otranto e quando si cliccava su internet la parola mago usciva subito lui perché c'era una delibera antitrust che lo qualificava come mago abusivo era uno che ne faceva tutti i colori intendiamoci beh dopo un po' di tempo l'autorità della privacy mi tirò le orecchie ma io ero pure un presidente in altra autorità perché lo tenevo su internet dimenticando io che lui aveva un diritto all'oblio cioè un diritto di essere dimenticato per non litigare con un'altra autorità e per senso istituzionale lo cancellai cancellai tutto di quella di quella sanzione e lui visse tranquillo tre giorni perché già il terzo giorno noi scoprimmo che aveva riaperto il suo studio di mago allora dico adesso bisognerà poi stare attenti che questi signori che noi scriviamo nell'elenco degli abusivi poi non vengano invece a portarci loro in giudizio e alla fine saremo noi a pagare due o tre volte quello che gli abbiamo causato come danno vabbè ho parlato questo è paradosso no? sì sarebbe un paradosso allora eh senatore Gasparri eh qua si chiedevano le leggi che dobbiamo eh dobbiamo dire un sacco di cose no intanto eh a parte ringraziamenti di brammatica per l'invito del presidente Lichi della FIAIP alla quale mi lega insomma la mano a frequentazione intensa e spero produttiva almeno per il senato è stata produttiva sul piano normativo mi chiedevo mentre parlava il presidente Catricalà qual'era la differenza tra un mago abusivo e un mago regolare perché come si riconosce un mago regolare perché quindi c'era anche l'albo dei maghi poi l'esame chi lo fa la verifica sul trucco perché anche il mago cioè una commissione presiduta da Silvan sicuramente potrebbe determinare lo status e quindi potrebbe essere un tema giuridico che da un giurista così esperto lo lancia ma sta a parte tutto intanto io mi auguro che prima o poi prima il presidente Catricalà faceva riferimento alla norma che abbiamo introdotto al senato vi auguro che alla Camera ci sia qualcuno che per quanto riguarda l'abusivismo nel settore immobiliare faccia il lavoro che francamente penso di poter rivendicare perché se non ci fosse stata la capabilità la determinazione anche di trascinare su quella posizione di una norma con una sanzione severa qualcuno diceva ma come noi andiamo a rifare una norma più severa poi ci possono essere anche altre vie e adesso si suggeriva per altri aspetti una sanzione diciamo di provenienza governativa quindi di tipo amministrativo però ecco noi abbiamo voluto dare un segnale chiaro rispetto al dilagare dell'abusivismo vedo che alla Camera la cosa langue e se noi ci vuole un altro mi dovrei clonare che vada a prendere per le orecchie il governo in quel caso il sottosegretario Ferri che ringrazio per la collaborazione e vada a tutelare il vostro settore ora al di là dell'abusivismo credo che il momento vostro sia un momento mi auguro che si schiuda un po' alla speranza al di là dell'abusivismo e della dinamica del settore prima il Presidente della Confederizia giustamente diceva c'è stata un'inversione di rotta perché nei giorni scorsi in questi mesi il governo ha voluto dare un segnale all'immobiliare con il ritorno a una detassazione della prima casa noi di questo siamo contenti non è che ci mettiamo a fare andiamo all'ufficio brevetti diciamo sono degli abusivi della norma perché la norma l'abbiamo fatta noi in questo caso non c'è abusivismo va bene vediamo però che cosa succede io ho visto una cosa che mi sta preoccupando in questi giorni ho visto che l'agenzia delle entrate che sta in una fase problematica diciamo anche rispetto al proprio status ha deciso di muovere un po' sul catastro fare qualche passo era stata sospesa la riforma del catastro perché il governo si era reso conto che ci sarebbe stato un aumento di imposizione fiscale e l'hanno messa lì su un binario morto adesso l'agenzia delle entrate dice no utilizziamo il concetto dei metri quadri anziché dei vani e lo usiamo per l'atari per i rifiuti ora vediamo intanto che esborso comporterà quindi non vorrei quindi io sono contento se il governo noi voteremo contro il mio partito la legge di stabilità per mille dubbi che abbiamo però su queste norme rivendichiamo un copyright e va bene se viene fatta non vorremmo che fatta la norma si trovasse l'inganno che attraverso un calcolo di metri quadri sull'atari poi si vada a prendere almeno una parte di ciò che si restituisce e che poi casomai si saggi il terreno cominciamo a applicare un pezzo di riforma del catastro con il concetto dei metri quadri e poi si ritorna a quella questione lo dico ecco perché c'è un problema sostanziale però se si va verso un'attenzione diversa all'immobiliare ben venga perché non ripeto qui perché stiamo parlando di abusivismo e non del tema di fondo quanto sia centrale e quanto sia fondamentale e di questo francamente noi siamo convinti l'abusivismo da bancani mi veniva anche in mente prima parlando sentendo il libro addirittura la madonna abusiva però poi alla fine meglio una madonna abusiva che un grattacielo perché poi chi l'ha cementata a sera poi conosco quanto è bella la spiaggia spero che l'abbia fatto con intenti come dire nobili poi alla fine si vedono cose talmente orribili sulle nostre coste che poi una madonna per esempio a Capovaticano il presidente catalanico e calabrese c'è una statua un subacuo morto su una delle spiagge di Capovaticano credo che fosse un notaio ha eretto sulla spiaggia la famiglia una statua vestita da subacuo una statua singolare che sta sulla spiaggia quindi alla fine senza nulla togliere la memoria di quella persona meglio la madonna ecco io credo che però in campo di abusivismo poi non in politica caro bancani noi abbiamo i partiti abusivi i parlamentari abusivi che sono quelli che cambiano schieramento quindi il Parlamento in termini perché un partito che non è stato votato è un partito abusivo cioè uno vota voi siete cittadini votate per chi volete avrete votato o non avete votato anche quella è una facoltà che attualmente viene ampiamente scelta però su uno vota un partito poi si ritrova quello che ha votato che sta in un altro partito e casomai non è in un partito già esistente qua già saremmo una forma di abusivismo attenuato uno aderisce a un partito che c'era uno da Forza Italia ma ne fondano altri passano quelli che fondano i partiti che nessuno ha votato e che non si ripresenteranno alle elezioni successive perché è rarissimo il caso di partiti strumentali nati durante la legislatura da scissioni che poi si presentano quindi abbiamo anche l'abusismo tant'è che noi riteniamo che una norma che dovrebbe essere rivista è quella della Costituzione che prevedendo l'assenza del vincolo di mandato consente a me parlamentario ora prendo il treno e torno a Roma e cambio partito ne fondo uno è una norma che poteva andare bene nei secoli passati quando c'era il tiranno che schiacciava il rappresentante oggi insomma tiranni non ce ne sono per cui da questo punto anche la politica dovrebbe tutelarsi per il resto noi dobbiamo tutelare delle professionalità questo mi ha spinto a sostenere in commissione quella norma adesso ci sono anche altri settori spesso si discute di un tema di tassi e Uber ma io voglio se prendo il tassi andare con uno che ha una licenza che ha un numero alla fine adesso con Uber che va molto di moda e c'è una battaglia perché il successore del presidente cattivale all'antidrasso vorrebbe che si aprisse perché un pensionato che non c'è niente da fare prende la macchina e porta una persona io anche per quel servizio voglio avere quella professionalità quella riconoscibilità perché se no poi alla fine poi uno si si lamenta nella città all'ora di punta ma ci vorrebbero più mezzi ma questo è un altro discorso quindi io credo concludendo che il tema dell'abudismo sia importante quello edilizio è una questione seria e drammatica spesso anche i condoni che abbiamo fatto in Parlamento non mi voglio sottrarre alle responsabilità delle colpe hanno diciamo risposto alla suggestione dello stato di necessità a un paese che spesso con il fai da te ha creato delle soluzioni ma anche dei guai perché poi ci sono delle zone d'Italia che sono state irreversibilmente guastate e però abbiamo visto che in questi ultimi anni però qualche caso almeno eclatante di Ecomostro è stato distrutto c'è stato qualche intervento ricordo sulla costiera Amalfitana ricordo a Bari la questione eclatante quindi c'è stata di punta per otti e quindi dopodiché in Campania c'è una situazione paradossale perché lì non fu applicato un condone di rizzo ci sono decine di migliaia 70.000 però non le possono abbattere abbatti tu 70.000 case i soli residui i soli materiali dove li metti e dove li porti allora io credo che noi dobbiamo rispettare però le professionalità io sono ancora un fautore degli ordini professionali sono un fautore anche nel campo vostro di una professionalità che poi credo che insomma non è vero che tutti possono fare tutto ecco insomma non c'è nulla di liberale nel caos in cui tutti fanno tutto anzi un sistema liberale si basa anche sulla competenza sulla professionalità sulla serietà e quindi io mi auguro che quella legge trovi la possibilità di fare l'ultimo miglio alla Camera dei Deputati e che la professionalità anche di questo settore lo vediamo anche in questa tavola rotonda come si intrecciano le realtà e il mondo del credito i finanziamenti la banca gli intermediari finanziari c'è anche la Guardia di Finanza che ci scruta e che ci osserva insomma ci sono mille intrecci che richiedono competenza serietà e professionalità perché non è vero che poi tutti possono vendere una casa come si suol dire perché poi abbiamo visto quante speculazioni quanti inganni quante truffe e sono truffe che hanno anche un valore rilevante perché per quanto ci sia la caduta dei prezzi comprare gli immobili non è come comprare una gravatta insomma quindi credo che ci sia una necessità di tutela della professionalità quindi benvengano anche i libri benvenga anche la riflessione autocritica che la politica deve fare perché a volte è stata un po' superficiali e benvenga anche la difesa della coerenza in politica per combattere l'abusivismo in politica perché c'è un'altra forma di abusivismo su questo mi fermo quelli che si credono di essere dei politici che vedete io credo che è così perché adesso c'è un'epoca di rottamazione quella bisogna rottamare cambiare per carità diciamo ma quello parla per difesa personale in fondo sta lì da qualche tempo attenzione all'improvvisazione benvengano categorie professionisti il mondo parlamentare è sempre stato aperto in vari apporti però l'improvvisazione nell'attività legislativa vedete e concludo con questo Catecala ha avuto varie vite insomma diciamo nel senso che è un alto magistrato è stato ai vertici dello Stato è stato in tanti ministeri in funzioni delicatissime è stato all'antitrust è stato sottosegretario della presidenza del Consiglio ha guidato diciamo in fase di delegato un governo ma io ho visto nella sua persona il connubio tra il politico e il tecnico il giurista che aiuta a fare le norme quando dice le leggi chi le fa io per esperienza personale ho constatato appunto come non si possa improvvisare ci vuole il politico che ha la forza di portare avanti una norma ci vuole il tecnico il giurista che consente che poi quella norma abbia una sua plausibilità quindi oltre all'abusivismo dobbiamo combattere l'improvvisazione che crea gravi danni alla vita del paese grazie no ma io ho una curiosità ho una curiosità che chiede a Gaspar no chi si improvvisa no pensava a Della Valle no 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 non lo so io non voglio offendere Della Valle io per esempio pur essendo fautore dell'alleanza di centrodestra quindi alleanza con la Lega però Salvini con l'orecchino non mi convince risponde a dei canoni estetici conservativi da conservatore classico Della Valle c'è un chilo di braccialetti al porto io ho un presidente del consiglio anche i braccialetti non ce lo vedo e io ho capito dove vanno a parlare nello stile della politica chi si presenta al pubblico deve avere un suo canon estetico insomma che deve rispettare sarò io sbagliato però insomma saranno braccialetti abusivi braccialetti abusivi va bene allora prima di coinvolgere il giovanale Cusso Crea voglio sapere da Roberto Ippolito se c'è un'altra perché hai parlato anche di mafiosi abusivi perché alla fine del libro io mi pongo la domanda se allora di fronte a tutto quello che ci stiamo raccontando bisogna soltanto disperarsi e in Italia non c'è nessuno che crede alle regole e allora cito un atto giudiziario l'intercettazione che è stata compiuta in carcere a un bosser gastolano che si chiama Di Giovanni che parlando con un interlocutore gli dice a te ti abbiamo fatto noi cioè ti abbiamo dato noi altri l'investitura ma lui chi l'ha fatto chi l'ha nominato abusivi sono tutti abusivi ricordatelo cioè il mafioso bosser gastolano si lamenta dell'esistenza di mafiosi abusivi quindi possiamo dedurre che c'è qualcuno che crede alle regole grazie hanno anche delle sanzioni cioè lì l'abusivo chissà che sanzioni può subire lì la sanzione conta molto funziona allora generale adesso riguardo all'argomento di cui ci stiamo occupando però si potrebbe generalizzare nel senso poi l'abusivo è un evasore non fa la fattura non paga i bolli voi vi dedicate molto anche a chi è emerso in chiaro diciamo così ma che fate contro chi è nero contro chi è abusivo intanto grazie devo dire che ho letto con grande interesse questo libro anche se devo dire pensavo che tutto lo scibile l'orizzonte è stato larghissimo ma il senatore Gasparri ne ha trovato un'altra di categoria che nel libro non c'era però questa ampiezza ci mette davanti a una difficoltà credo l'abusivismo viene da troppe norme non lo so queste sono domande senza risposta però qualche caratteristica dobbiamo comunque trovarla dove dobbiamo cercarla è un fenomeno italiano è un fenomeno internazionale credo comunque in larga parte sì è più largo di quello che si pensi anche nella latitudine del mondo e ovviamente aspetti di estrema diversità negli effetti che crea cioè è evidente che per quanto grave possa essere vendere da abusivo una maglietta di una squadra di calcio non è così grave come possa essere nel mondo finanziario o nel mondo medico sanitario e quindi forse anche dal punto di vista normativo noi non siamo abituati mai a commentare norme ma a applicarle però è chiaro che la differenza in questa parola unica deve essere comunque tarata anche sugli effetti che crea di certo un effetto unico c'è per tutti cioè quello economico è evidente che tante più regole ci sono tante più stringenti tanto più l'evasione sotto qualsiasi forma chiamiamola genericamente si annida in quel mondo e tanto sono più stringenti quanto queste abbiano un connotato economico il connotato economico c'è per tutte le forme di abusivismo tutte vanno a finire non necessariamente nel danno da mancato pagamento di tasse ma anche sul danno perché l'abusivo alla fine è conveniente in tutte le sue forme molto probabilmente appunto non paga i dipendenti non paga i contributi non paga le tasse in qualche modo incide fortemente sulla concorrenza nel suo settore e contemporaneamente è in grande vantaggio perché comunque mette in una condizione diversa tutto il mondo ma a questo punto come reagiamo noi abbiamo almeno tre livelli almeno due livelli tutti quanti noi apparteniamo alla categoria dei cittadini e in questa sala molti quasi tutti appartengono a una categoria più ristretta di appartenenti a un albo un mondo una federazione a un'organizzazione regolamentata poi io appartengo a un'ulteriore categoria di quelli che devono vigilare ma il primo dovere quello comune è quello del cittadino la gran parte delle forme di abusivismo andrebbero combattute da cittadini perché non ci sarà mai abbastanza polizia mai abbastanza organismi di controllo mai abbastanza organismi professionali per ottenere questo risultato la polizia si dovrebbe concentrare sulla parte più eclatante quella più dannosa quella più grave quella con maggiori effetti economici sociali sulla salute sull'ambiente una gran parte però può essere intercettata dal cittadino appartenente a un'organizzazione a un'associazione a un albo a una federazione questo perché è un interesse fortissimo degli appartenenti in una categoria quello di tutelare gli iscritti ed espellere i non appartenenti o a farli venire fuori a causare quel danno che il presidente Catricalà ben evidenziava quel danno reputazionale quel danno che fa sì che la gente debba fidarsi degli appartenenti e disfidare dei non appartenenti perché purtroppo in questo mondo con grande forza economica c'è purtroppo una convergenza di interessi perché evidentemente l'abusivo fa risparmiare allora il cittadino ogni giorno è posto davanti al dubbio compro il giocattolo per il bambino costa solo 3 euro sulla bancarella poi sì forse sarà rischioso forse l'avrà fatto un bambino minore in Vietnam forse fatto con materiali non sicuri però in tasso costa 2 euro vediamo compriamo quello poi va a curarsi dal dentista e cerca quello che ti fa lo sconto quello che ti tratta meglio è difficile chiedersi ma sarà anche un abusivo probabilmente uno che ci fa lo sconto diamo da quello ma chi può vigilare sull'abusivista finanziario sull'abusivo agente immobiliare sull'abusivo dentista i dentisti sanno chi sono i dentisti abusivi o possono saperlo possono capirlo e loro non possono fare affidamento invece sul cittadino il cittadino può capirlo per la bancarella per strada sa che quella è una cosa non regolare in modo plastico evidente per tutti chi va dal dentista dal medico si fida se il dentista non mi dà la fattura lo capisco no 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 questo no questo purtroppo no questo purtroppo no questo la categoria del riflesso economico purtroppo appartiene a tutti al mondo dell'abusivismo ma anche al mondo del regolamentato su questo non posso fare il discrimine se non se non che è eccessivo probabilmente se mi rendo conto che una bottiglia di vino costa meno di quanto la immediata percezione possa far pensare che possa costare produrlo probabilmente posso anche capire che c'è dietro un abusivismo ma non fare una fattura oppure dire vabbè facciamoci lo sconto io non ti faccio la fattura tu paghi un po' di meno può essere l'accordo scellerato che tutti quanti possono fare per una ragione di convenienza economica come? c'è il dentista regolare che usa il dentista bussino che usa il dentista bussino sì perché molto l'odonto tecnico che magari fa il lavoro del dentista e in quel caso c'è c'è quell'abusivismo parziale di chi va oltre la regola della professione che gli è stata attribuita però la grande responsabilità che abbiamo come appartenenti a un'associazione a una categoria ristretta di vigilanti e mettere nelle condizioni noi che dobbiamo fare il poliziotto che deve poter secernere da un mare magnum una possibilità di intervento dovete essere voi la nostra spalla cioè aiutateci aiutateci ad aiutarvi metteteci nelle condizioni di comprendere i fenomeni più significativi in modo che questi siano di esempio per far capire che certe norme vanno rispettate fa un po' impressione capire che alcune norme non hanno quella caratteristica di effettività che noi vorremmo che avessero e allora aiutateci ad intercettare anche appunto mettendo in evidenza assumendosi la responsabilità di evidenziare come ordine come federazione come albo come categoria chi è fuori dalle regole in quel caso per noi sarebbe più facile intervenire grazie grazie io credo che possiamo andare a concludere non so se volete aggiungere qualcosa Roberto facciamo una sorta di piccola autodenuncia finale perché c'è il tema del danno reputazionale che mi sembra davvero molto importante forse la cosa più importante che è scaturita da qui allora due piccoli esempi di autodenuncia voi non ve ne siete accorti mentre stavate parlando io gli ho scippato il portafoglio e gli ho tolto 100 euro a lui sono un ladro vero? siete un attimo sconcertati no no vediamo dove vuoi arrivare seconda autodenuncia io evaso il fisco per un milione di euro sono furbo vero? cioè la reputazione in generale per chi commette un piccolo furto è pessima la reputazione pensiamo per un momento a grandi personaggi senza fare alcun nome ognuno di noi può pensare a qualcuno a grandi personaggi popolari pubblici che hanno pagato per la loro evasione fiscale la loro reputazione è elevatissima il danno reputazionale al di là dell'esistenza dell'albo che è molto interessante come proposta in Italia non c'è se non cominciamo con la reputazione questo è un fatto culturale però esattamente esattamente è un fatto culturale si evocava adesso ecco il presidente un attimo che prendiamo un microfono ecco prendiamo questo allora intanto voglio ringraziare tutti i relatori perché oggi era importante non sentire solo noi che diciamo a morte gli abusivi e qui e io farei questo ma vedere la realtà perché delle volte noi ci scontriamo con i nostri desiderati con quello che vorremmo e poi però dobbiamo fare i conti con quello che accade nella realtà no? allora il presidente della camera di commercio di Firenze ci ha detto guardate noi controlli non ne facciamo o quantomeno ne faranno o quantomeno ma è un fenomeno che se non è controllato vuol dire che forse interessa poco ci ha detto un'altra cosa il generale ci ha detto aiutateci perché noi siamo pochi non abbiamo non riusciamo a fare molto probabilmente tutti i controlli quello che poi diceva anche il presidente Catricarano cioè c'è bisogno di una presa di coscienza anche da parte nostra quante volte noi abbiamo un abusivo di fianco e non lo denunciamo quante volte vediamo delle cose anche all'interno delle agenzie che non vanno bene non lo diciamo allora qui oggi è facile su un palco dire viva la lotta l'abusivismo noi siamo duri e puri poi quando torniamo nelle nostre agenzie forse un po' siamo quelli che casomai vanno dal dentista e dicono siamo tutti uguali però il problema è che come dicevamo oggi bisogna cambiarla questa tendenza bisogna cambiare questa modalità e secondo me bisogna cambiare anche il trend che c'è in questo paese perché se noi depenalizziamo continuamente se noi continuamente non non ci rendiamo conto che soprattutto in questi periodi di crisi la gente che la mattina va a lavorare che tira su una sala cinesca che apre l'ufficio di uno studio fa fatica fa fatica fa veramente fatica sapete i numeri dei fallimenti che ci sono in questo paese sapete la pressione fiscale cioè oggi la gente ha bisogno di sentire lo stato vicino ma di sentirlo anche per la tutela allora quello che io ho apprezzato in tutte le persone che con cui insomma chi dà meno chi dà di più lavoro è la volontà di analisi è la volontà di capire che oltre al problema dell'abusivismo degli agenzie immobiliari quanti abusivi ci saranno un milione di tipologie il fenomeno va combattuto con uno stato che si riappropri del diritto con le certezze della pena perché in questo paese non va in galera nessuno porca miseria allora basterebbe basterebbe semplicemente basterebbe semplicemente non fare nuove leggi come tutte le volte si fanno ma forse applicare con coscienza quelle che oggi sono presenti quindi io ringrazio tutti perché e ringrazio anche il presidente della camera di commercio che è stato almeno applaudito perché ha detto la verità perché di solito quando si dice la verità poi vieni un attimo invece correttamente ha fotografato un fenomeno che c'è in quasi tutte le camere di commercio noi adesso vi racconto un episodio anch'io noi abbiamo denunciato una camera di commercio uno che era stato condannato condannato perché ha fatto delle truffe immobiliari questo signore ha un'agenzia immobiliare in un centro città e noi abbiamo mandato la sentenza di condanna abbiamo mandato le foto dell'agenzia immobiliare che ci aveva mandato naturalmente un nostro collega dopo un anno la camera di commercio non ci risponde dopo sei mesi la sollecitiamo dopo un anno scriviamo al ministero sembra una barzelletta scriviamo al ministero il ministero dello sviluppo economico scrive alla camera di commercio nella prima parte poi te la faccio vedere ma così per curiosità nella prima parte dice no tu devi agire perché secondo la legge tu poi però ti rilascio alla tua autonomia di camera di commercio ecco queste robe qui queste robe qui fanno male a tutti quelli che alla mattina vanno a lavorare quindi impegniamoci tutti insieme perché al di là delle idee diverse qualcosa in sto paese lo dobbiamo fare per cambiare scusate mi prendo il diritto di rispondere a una cosa perché insomma è tutto vero assolutamente anche se vorrei fare una domanda quanti abusivi c'è in questa stanza? nessuno sbaglia solo la camera di commercio no perché la riflessione è un'altra le camere di commercio io lo faccio da un anno e due mesi due giorni dopo che io sono diventato presidente a Firenze il premier annuncia che le chiude per cui mi è mi è stato mi è stato mi è stato facilissimo farlo perché ho pensato solo come smontare una camera di commercio no cioè era l'inverso dell'IKEA come smonto il mobile era l'inverso però devo dire una cosa tutti sono venuti a lamentarsi tutte le categorie tutti gli imprenditori le imprese via via la camera di commercio non faceva delle cose oh ma nessuno si fosse lamentato perché diceva che le chiudeva allora se servono servono ma devono servire ma allora alziamo un dito se non servono si chiudano allora non si può essere ipocriti perché come io sono onesto nel dire cosa si fa e cosa non si fa l'onestà la voglio da tutto il punto di vista per sentire se servono vogliono la difesa del fatto che c'è bisogno delle camere di commercio che funzionino e adesso ti rispondo perché perché noi abbiamo fatto un atto concreto come FIAIP perché siamo stati in audizione alla camera di commercio quando si faceva la riforma perché anche noi facendo parte attiva di questa cosa e abbiamo detto c'è il nostro documento che poi ti invio e noi l'abbiamo ribadito le camere di commercio hanno una funzione fondamentale all'interno poi sulla riorganizzazione le cinque camere le ottanta non siamo tecnici da questo punto di vista ma noi le abbiamo difese le camere di commercio nonostante questa cosa quindi vedi che siamo completamente in linea e come io chiedo alla camera di commercio di però fare questa battaglia nello stesso momento a livello di federazione nazionale le abbiamo difese le abbiamo difese in audizione quindi fatto aspettiamo adesso di sapere il destino grazie allora grazie a tutti i nostri partecipanti grazie a tutti voi grazie al presidente Righi ci vediamo domani pomeriggio domani mattina e domani mattina e domani pomeriggio sono domani mattina le nove e mezza riapriamo i lavori grazie